Solti, sei già mai passato da qua, non è? Non è che veloce. Sto facendo un po' di adesso. Sto facendo la vera schifo? Ah! Sto facendo un po' di adesso. Sto facendo un po' di adesso, non sembrava una linea di scuola. Tu possono perdere un po' di. Ci sono fortalezza! Quindi, facciamo il sinalo e facciamo la camera. E facciamo la posizione. Ok, preparati? Questa è la macchina di un pensamento. Il compagnosi che devono sinalo, si. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.